Stitch, no, cattivo. Stitch, coccoloso! Mica modo tuista! È un'emozione grandissima! Oana significa famiglia e famiglia significa che nessuno viene abbandonato. Con lo sesso e violenza in tv, quel cari e bei programmi ormai non ci sono più. Che fino hanno fatto i vecchi valori su cui potevi contare. La famiglia Griffin è qui! Lei pura allegrarvi ed appassionarvi con le sue avventure più altche in la famiglia Griffin! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!